La regione Piemonte aveva all'inizio fatto una richiesta per 8 e poi l'aveva ampliata arrivando quasi fino a 13 funzioni, però eravamo in una fase ancora sperimentale di valutazioni tecnico-giuridiche, così mi è stato spiegato da chi mi ha preceduto. Noi invece vogliamo portarci al livello delle altre regioni e quindi un meccanismo anche di analogia funzionale, noi siamo evidentemente confinanti con la Lombardia, abbiamo interesse a muoverci in modo comune anche nella gestione delle competenze, perché in questo modo potremmo davvero fare in modo che questa autonomia non sia solo un cavillo politico o una battaglia politica seppur legittima, ma che sia invece quello che io ritengo, cioè una via concreta di una nuova gestione amministrativa per risolvere i problemi dei piemontesi. Quindi le chiederete tutte come il Piemonte? Stiamo valutando. Sì, come il Piemonte volevo dire. Sì, la Lombardia, sì, il 23. Ci stiamo ragionando, il dossier, noi abbiamo insediato la giunta lunedì per cui siamo all'inizio, però per il 19 luglio, che peraltro è il giorno della festa del Piemonte, quindi non è una data casuale, noi presenteremo e comunicheremo quella che è la nostra proposta, che sicuramente è una proposta che velocizza e che aumenta le competenze in autonomia che noi chiediamo allo Stato italiano.